Ritorna la paura in pieno centro città Cagliari, in via Dante, un uomo ha urlato e ha lanciato degli oggetti dalla finestra, dal terrazzo di un primo piano. Non è la prima volta che succede, è già qualche settimana fa lo stesso episodio, protagonista la stessa persona. Vediamo per terra i resi di quello che è lanciato, batterie, pacchi di pasta, sacchetti pieni di immondezza, addirittura anche vestiti. Quindi sono intervenute nuovamente le forze dell'ordine, vediamo un nastro bianco rosso, 118, tanti curiosi, anche persone spaventate. Sono intervenuti anche i carabinieri dopo l'SOS che è stato lanciato ancora una volta, sia da qualche residente, sia da qualche passante. Non è la prima volta che capita un fatto simile a Cagliari, non è la prima volta che capita, tra l'altro, in un palazzo preciso di via Dante. L'uomo l'ultima volta era stato portato via dal 118, adesso è ritornato, è tornata anche la paura, appunto, in pieno centro città. L'uomo 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 l'uomo. L'uomo 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 l'uomo.